Vedi con gusto, bevi a sto tempo, una domanda di rispondere a tutti i miei modi, secondo me, e davvero è sto tempo. E' tutto quello che mi ha detto, è tutto quello che mi ha detto, è tutto quello che mi ha detto, già è difficile vedere in generale, qui c'è. E' tutto quello che mi ha detto, è tutto quello che mi ha detto.